Semplificazione. È questa la parola d'ordine del nuovo decreto legge su riordino del sistema cooperativistico approvato dall'Aggiunta regionale. Un'approvazione commentata con parole di soddisfazione da parte del Presidente della Regione, Cristian Solinas. Il sistema cooperativistico regionale rappresenta uno strumento di valorizzazione e crescita sostenibile del lavoro e dell'economia che garantisce equità e partecipazione. Dotare la nostra isola di uno strumento che regoli le funzioni e gli ambiti d'azione di queste insostituibili realtà era una necessità che adesso ci permette di allinearci alle altre regioni a statuto speciale. Il documento, nato su proposta dell'assessora del lavoro e cooperazione sociale Alessandra Zedda, con l'obiettivo di valorizzare il ruolo della Regione e salvaguardare l'autonomia del sistema cooperativistico, è composto da 36 articoli. Tra gli elementi principali del decreto legge, una delle novità più significative è senza dubbio la semplificazione delle procedure per la ridefinizione dell'albo regionale, con l'innovazione della possibilità della doppia iscrizione, poi l'istituzione della Commissione regionale per il sistema cooperativistico, la descrizione delle diverse provvidenze e contributi da adeguare in base alle condizioni economiche e di mercato, spazio anche alle cooperative sociali di tipo A e B. Un documento che dunque mira in primis a dare una risposta al mondo delle cooperative, come spiega anche l'assessora regionale del lavoro Alessandra Zedda. Adesso ci attiveremo affinché si acceleri l'ultimo passaggio in Consiglio regionale. Questo provvedimento nasce dall'ascolto e dal lavoro con le associazioni di categoria e il mondo rappresentativo delle cooperative. Era ormai improcrastinabile l'esigenza di dare vita a questa legge con la quale vogliamo regolamentare un settore strategico per la nostra economia.